Apriamo le gabbie, appena ovviamente i led partiti. E' un vantaggio rimbomba davanti a Extradition Scale, Luigi Celli, Alaska Suite, Genico Incanto, San Aurora, Balak e Mary Mujad, Val di Lanzo, Ataulpa e Catbos, all'inizio della curva, in vantaggio rimbomba con vicino Extradition e Luigi Celli, seguono Scale, Pretoria, Balak, Gelido Incanto, Capitan Mattia, Mary Mujad, poco prima dell'ingresso addirittura, rimbomba, Extradition e Luigi Celli conducono davanti a Scale e Alaska Suite, i cavalli entrano addirittura, con Luigi Celli in leggero vantaggio a centropista, davanti a Alaska Suite, Gelido Incanto, Balak, Capitan Mattia, Catbos, Ataulpa, passa Alaska Suite, attaccata all'esterno da Capitan Mattia a centropista, Catbos, seguono Balak e Mary Mujad, in vantaggio Capitan Mattia, davanti a Catbos, Alaska Suite e Balak, è facile Capitan Mattia, davanti a Catbos e Balak Alaska Suite vicini. C'era voce l'altro giorno, caro Stefano, di Capitan Mattia, che poi evidentemente qualcosa gli è andato storto, ma stavolta è andato tutto per il meglio, Maurizio Pasquale in sella a 9.33 la sua quota è il numero 3 e porta a casa la Tris, che per essere Tris si deve completare anche con il risultato di coloro, gli altri due che lo hanno seguito sul traguardo e che, come stiamo riapprezzando in questo momento, sono la sorprendente Catbos, che a 37 contro 1 darà un quotone, e Balak, Balak che stampa Alaska Suite, 3-1-6.